ok eccomi qua ma è successo come l'altra volta fatto uscire la partita non so che cazzo è successo niente continuiamo con le partite o partite dipende da non so perché che cazzo che mi succede che succede stavo affrontando il campionato temporale mi ha fatto uscire la partita e che cazzo niente vediamo vediamo tentato del carico arrivo eccomi ho visitato una cosa vediamo se esco a vincere allora ero sceso la cittadella per il campione e ti dico andiamo qua ah sono lì non ho visto la mappa tu cazzo è c'è gente porca troia la cassa oh manikit ok allora guardate impulsi non ne faccio niente un'altra cassa vedo ok allora le meduse ok c'è qualcuno cazzo neanche il tempo di sparagli ah merda dovevo aspettarmelo no 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 l'altra 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 no no vediamo riesco vediamo se la prossima partita riesco a fare qualcosa poi poi dipende da da quanto ci mette arrivare alla fine cosa guarda sarebbe bello che tornasse come vento qua i torni sendai quell'evento fatto l'anno scorso bellissimo sarebbe bello eh la canzone di Smonkey scena ballerina se tornassi qua sul forte dello spettacolo sarebbe bellissimo devo sperare che ritorni manca da un anno eh uh la skin che mi piace tanto la sabina sono riuscito a sbloccarla nel capitolo 3 stagioni 3 se non sbaglio io ce l'ho dovreste quando usarla è pass battaglia eh vediamo eh qua qua Allora, qui è una cassa di, arriva, va picconato, va picconato, ma guarda, sì, quello del piccone, ma il piccone non si vede, no, assurdo, assurdo, tu mi vai a picconare, ma veramente, la prima volta che mi succede una roba del genere, che vengo eliminato subito, subito, ma sta zoccola, ma veramente assurdo, facciamo un'altra, vediamo fin dallo arrivo. Grazie. 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 ce l'ho, non te la fa vedere, ti fa vedere piccone quello quando inizi a girare la prima volta, cioè quando lo scarichi, veramente assurdo, che uscita clamorosa eh! Che cazzo, una mitraglietta, prendila, presa, pompa, minchia, lo stanno distruggendo, uh, cassa del guardiano, falco di cognitore o me ne frega, pompa blu buono, due scudi, ne uso uno perché sono ripariti là, non mi vede questa, occhio, dov'è? Occhio, qua in giro, usiamo la tattica che ho fatto qua, mi sembra che era, ecco qua, ecco fatto, occhio, e entra? No, che cazzo è? No, mi ha detto una taglia, chi cazzo sta? prendilo, occhio, si mi trova su cazzi eh, questo, ha inviato la taglia proprio, non doveva farlo, ecco qua, godo tantissimo, eh, godo, eh, zoccola, uno scudo qua, aspetta, vai con la benda, ecco lo scudo, ma non è lei, aliano la taglia, qualcun'altro, attenzione, è qua in giro sto bastardo lo sento sento qua mi trovo sto stronzo dai scendi sta curando aspetta beh ma è qua il nemico una taglia attenzione ecco il campione ti tira le spompe in bocca buono che l'hanno fatto fuori buono 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 preso meta ok vai di qua eccolo mancato porca troia questo non li fa fuori con la martellata è un po' si è baggato si è baggato che culo cambia questo che pompo bastardo di merda porca puttana porca puttana e qua è arrivato uno stronzo guarda guarda dov'è è arrivata la tempesta porca puttana porca puttana porca puttana cazzo cazzo è cazzo è cazzo è cazzo è allora il laser stronzo porca preso ok allora veloce veloce ok ha fatto così giusto così andiamocene veloce 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 no non ci attengo la bandiera vai se mi muovo vado in se guarda che culo guarda che culo splash c'è il medikit prendo le vende e manca poco ok ok questo è epico l'ho già visto prima di iniziare questa parte epico e leggendario ok ok qua medici pura bomba giusto ma sì ma giusto 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 ok a l'ottimizzazione ok andiamo edikit buono questo è un po sopra un altro è sparando fa quel conditore niente arco pussolente no ok safe qua c'è una cassa scudo ma vaffanculo perché non l'ho preso prima allora c'è una cassa che cade quella di all might vediamo senza che mi distruggano ecco lì ecco lì c'è quel polone in merda ok ok cazzo c'ho il martello no no lo stavo usando e mi ha fatto fuori no andiamo con me no dai la stessa parte finisce qua allora terminiamo con la stessa parte dai divisa in due parti perché la prima mi ha fatto uscire la partita sai che cazzo è successo adesso no la stessa parte chiudiamo così dai peccato stavo usando il martello ha fatto fuori cazzo abbiamo a partire al terzo posto buono ho iniziato bene poi iniziato a calare di brutto purtroppo ho dovuto commentare così perché ho detto prima si ma si ma eh può capitare una volta ma non di più eh anche il commento così non mi faccio sentire con eh che cazzo eh boh la stessa parte di forte termina qua e ci vediamo la prossima parte ok boh allora allora viva eh allora viva viva eh ho fatto una cosa boh 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 posto boh la stessa parte finisce qui di forza ci vediamo le prossime parti ok oggi la stessa parte ho usato la pende della pace ma la pace ritornerà eh ok giusto dare spazio anche a lei in questa stessa parte poi vediamo poi la prossima parte chiusa ok boh mi fermo qui e quindi vi dico che finisce qui il gameplay di fortnite fortnite quindi un ciao da alessio 19 8 870 alla prossima ciao